il tempio ha un corvato ma non siamo entrati dall'ingresso principale abbiamo visto che questo tempio sembra un piccolo ma non piccolo così è grande adesso noi siamo un lato est e un po' estera sud e un corvato ha visto che solo fondamenta questa alta più di un metro è lungo è largo questo è largo 400 metri lungo 600 metri solo fondamenta questo lavoro è successo nel 1181 lui ha continuato questo lavoro ancora 12 anni per finire ancora ancora non finito è chiamato questo nome come nome chiamiamo voleva dire come ragazzi belli dobbiamo fare ancora le foto noi ma non da questo lato dal lato ovesta perché dal lato ovesta è principale questo preparato paradiso e infierno 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 e paradiso solo cartello ha scritto che infierno Grazie. 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 夏季有點害怕上來還好 . 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